papi nella storia papa pio nono giovanni maria ferretti 16 giugno 1846 7 febbraio 1878 pio nono 255esimo papa della chiesa cattolica inizio pontificato 16 giugno 1846 fine pontificato 7 febbraio 1878 nome secolare giovanni maria mastai ferretti nascita senigallia papa pio nono la famiglia mastai e antichissima e nobile sirpe originale di crema nel 1300 un componente di questa famiglia residente a venezia si spostò a senigallia nel 1557 e sposò una senigalese senigalliese nel 1625 giovanni maria mastai sposò la contessa margherita ferretti di ancona ereditando nei titoli i beni e lo stemma che si aggiunge a quello dei bastai fu una famiglia molto prolifica religiosa il trisavolo di pio nono ebbe 19 figli il bisnonno sei figli il nonno ercola 7 giovanni maria mastai ferretti pio nono fu il nono figlio del conte girolamo e di caterina sollazzi e nacque a senigallia il 13 maggio 1792 battezzato allo stesso giorno della nascita compi gli studi classici del collegio dei nobili di volterra diretto dagli scolopi nel 1803 dal 1803 al 1808 studi sospesi per improvvisi attacchi epilettici proprio quando sognava di seguire la carriera ecclesiastica nel 1814 fu ospite a roma dello zio mastai ferretti paolino canonico di san pietro e potrà proseguire gli studi di filosofia e di teologia nel corregio romano nel 1815 si regò in pellegrinaggio a loreto ed ottenne la grazia dalla guarizione dalla malattia per questo poter continuare i suoi studi e la preparazione intensa al presbiterato presbiterato il 5 gennaio 1817 ricevette gli ordini minori il 19 dicembre 1818 il sudia sudi su diagonato il 7 marzo 1819 il diaconato il 10 aprile 1819 venne ordinato sacerdote l'11 aprile 1819 celebrò la prima santa messa nella chiesa di sant'anna annessa allo speziottata giovanni tre ragazzi che furono il centro del suo apostolato giovanile fino al 1823 dal luglio 1823 al giugno 1825 fu tra i membri componenti della missione apostolica in cile guidata dal delegato monsignor giovanni muzzi il 24 aprile 1827 fu nominato arcivescovo di spoleto a solo 35 anni il 6 dicembre 1832 venne trasferito al vescovado di imola il 14 dicembre 1840 ricevette la berretta cardinalizia il 16 giugno 1846 al quarto scrittugno con 36 voti su 50 cardinali presenti al conclave venne eletto sommo pontefice a soli 54 anni un mese dopo concesso l'amnestia 16 luglio 1846 per i reati politici dall'agosto del 1846 a 14 14 marzo 1848 è l'epoca delle grandi riforme dello stato pontificio ministero liberale libertà di stampa e agli ebrei guardia civica inizio delle ferrovie municipio di roma 14 marzo 1849 emissione dello statuto con l'allocuzione del 29 aprile 1848 contro la guerra all'austria declina la stella politica di mastai e incomincia la sua lunga via crucis il 15 novembre 1848 uccisione di pellegrino rossi dal 24 novembre 1848 al 12 aprile 1850 esilio del pontefice a gaeta e quindi ritorno a roma ove riprese una illuminata restaurazione l'8 dicembre 1854 definizione del dogma dell'immacolata concezione dal 4 maggio al 5 settembre 1857 viaggio visita politica pastorale di più o di più nono nei suoi stati nell'aprile del 1860 cadrero le legazioni nel settembre le marche l'umbria furono annesse al regno d'italia il primo luglio 1861 viene pubblicato il primo numero dell'osservatore romano l'otto dicembre 1864 l'enciclica quanta cura è il sillabo il 2 maggio 1868 approvazione della gioventù cattolica italiana l'otto dicembre 1869 apertura del concilio vaticano primo che promulga due costituzioni la dei filius e la pastor eternus del 18 luglio 1870 e la definizione del magistrato infallibile del pontefice romano se parla ex cattedra chiusura del concilio per per il partecipante degli eventi politici il 20 settembre 1870 presa di roma e chiusura volontaria del papa in vaticano l'otto dicembre 1870 pio nono proclamò san giuseppe patron della chiesa universale il 16 giugno 1875 consacrazione della chiesa del sacro cuore di gesù il 7 febbraio 1878 morte di pio nono dopo 32 anni di pontificato il 12 febbraio 1907 pio decimo ordina l'introduzione della causa di battificazione di pio nono con i processi diocesiani di roma seligaglia spoleta imola napoli nel 1954 1955 solenne apertura del processo apostolico di battificazione presso la congregazione dei santi il 6 luglio 1885 per la promulgazione del decreto sulla riuscita delle virtù di pio nono il 20 dicembre 1999 decreto di riconoscimento del miracolo attribuito a pio nono omelia da santo padre osservatore romano quotidiana quotidiana domenica 3 settembre 2000 dal sito il papi papa pio nono it la giovinezza 13 5 1792 nascita a senigallia di giovanni ma stai maria ma stai ferretti dal conte che girò l'uomo girona ma gonfale odieri di senigallia dalla contessa caterina soldazzi e battezzato lo stesso giorno della nascita il 66 1789 riceve la crescita la cardinal bernardino onorati d'escovo di senigallia il 22 1803 prima comunione in duomo nella cappella della manola della speranza il 20 10 1803 entra dal collegio di volterra diretto dai papi scolopiche ove rimarrà fino al 26 9 il 1809 per gli studi giovani naziali e liceali dicembre 1809 si trasferisce a roba presso lo zio paulino mastai canonico della basilica vaticana per proseguire gli studi filosofici e teologici al collegio romano il 10 4 1810 e esercizi spirituali in stato secolare pone le basse spirituali che lo guideranno per tutta la vita 1812 breve a permanenza a bologna per avere l'esonoro della chiamata alla leva della guardia nord del regno d'italia a motivo della sua epilessia 1815 inizia la sua opera di assistenza presso istituto tata giovanni opera istituita per istruzione professionale dei ragazzi abbandonati 1815 chiede di essere annesso alla guardia nella guardia nobile pontificio viene accettato ma poi dimesso per i suoi attacchi pelettici il beato vincenzo pallotti gli profotezia il sommo pontificato visita al santuario dell'oreta 1816 a senigaglia prende parte come catechista dalla missione predicata da monsignor del scalchi e dal venerabile strambi il 3 11 1847 conclude la lega do canale con la sardegna e la toscana e prepara la federazione di tutti gli stati italiani il 29 12 1847 riforma il consiglio dei ministri il 10 2 1848 dalla loggia del quirinale pronuncia le fatidiche parole grandio benediter italia 14 3 1848 concede lo statuto 14 3 1848 all'occasione di pionono che ebbe l'effetto di un vero cataclisma e gli dice teniamo in terra le vieci di colui che autore della pace amiamo di un medesimo potere paterno amore tutti i popoli e tutte le nazioni 35 1848 lettera all'imperatore d'austria in difesa dell'indipendenza italiana 15 11 1848 uccisione del conte pellegrino rossi nominato capo del governo di pionono 24 11 1848 pionono si rifugia in a gaeta 9 2 1849 da gaeta si trasferisce a portici 4 settembre 1849 proclamazione della repubblica romana 12 4 1850 pionono rientra a roma 48 1850 disposizioni per tutto lo stato pontificio per la tutela e forma e formazione dei sordomuti 12 9 1850 con un moto proprio istituisce con lei il consiglio di stato una consulta per le finanze ed elargisce un'ampia e nuova amnestia il 29 1850 ribadisce la gerarchia ordinaria in inghilterra con l'arcivesco visivan il 21 7 1852 cerca di richiamare come farà moltissime altre volte lo zar ha più miti rapporti con il cattolicesimo il popolo della polonia e 4 3 1853 ristabilisce la normale parrocchia gerarchia in olanda l'11 3 1853 condanno il nuovo gallicanesimo che il concilio vaticano primo che con il concilio vaticano primo scomparirà per sempre 28 6 1853 fonda il seminario pio l'11 5 1854 visita la le catacombe istituisce la commissione di archeologia cristiana e nomine presidente il grande archeologo gian battista de rossi l'8 12 1854 proclamazione del dogma dell'immacolata concezione la bolla ineffabilis venne tradotta in 400 lingue e dialetti 9 4 1854 con sacra basilica di san paolo risorta con incomparabile magnificenza dopo l'incegno del 15 luglio 1823 3 4 1856 approvazione piano ferrovie dello stato pontificio la prima linea roma civita vecchia verrà inaugurata il 24 24 4 1859 il 4 5 1857 vista allo stato pontificio rientra in roma il 5 il 5 settembre il 1855 1866 invia missionari e dirige vari vicariati tra gli eschimesi e laponi del nord in india bilmania cina giappone il 16 9 1860 battaglia di castelfidardo 1860 perdita perdita dalle legazioni marche e umbria 1862 situisce una speciale congregazione per gli affari del rito orientale 8 12 1864 enciclica quanta cura e sillabo raccolta di 80 proposizioni erronee divise in 10 rubriche 29 6 1900 1867 celebrazione del 13 del diciottesimo centenario del martirio di san pietro e paolo 25 1868 con un breve con un breve pio nono approva la società dalle gioventù cattoliche italiana fondata da mario fani e giovanni acquaderni acquaderni il 29 6 1867 l'undici 4 1869 solenze liberazioni in tutto il mondo per il giubileo sacerdotale 7 12 1869 apertura del concilio vatico d'opinio viene sospeso al 18 7 1870 18 70 proclama durante il concilio vaticano il doggova dell'infallibilità pontificia 29 1870 la presa di roma pio nono si chiude in vaticano in volontaria prigionia 8 12 1870 dichiara san giuseppe padrono della chiesa universale 32 1871 roma viene dichiarata capitale 13 5 1871 promulgazione della legge delle guarantige 27 1871 trasferimento della capitale da firenze a roma 37 1871 ingresso di vittorio emanuele secondo a roma 21 8 1871 pio nono scrive a vittorio emanuele secondo esprimendo le ragioni per cui non può accettare la legge 23 8 1871 feste solendi per il giubileo del sommo pontefice che oltrepassa i 25 anni due mesi e sette giorni i tradizionali del pontificato di san pietro a roma smentendo così il testo popolare non vi debis anno spetri 1874 sorge l'opera dei congressi 16 1875 consacrazione della chiesa del sacro cuore 29 1 1877 pio nono dichiara in un breve in un breve alla gioventù cattolica italiana il ren ex spirit il 36 1877 solenne manifestazione in tutto il mondo per il cinquantesimo della consacrazione episcopale 29 1 1878 restaura la regolare generichia nella scozia 2 2 1878 ultimo discorso ai parici di roma il 7 2 1878 morì dopo il lungo pontificato della storia ed è sepolto provvisoriamente in san pietro sacerdozio il 18 4 1819 viene consacrato sacerdote l'unici 4 1819 celebra la sua prima messa nella chiesa santa sant'anna dei falegname nello spizio di tata giovanni è nominato direttore di questo istituto sino al 1893 37 1823 parte con il nuzio pastolico monsignor muzzi per il cile vi rimane fino al febbraio 1895 il 36 1897 consacrato vescovo a soli 35 anni dal cardinale salverio castiglioni poi papa più più ottavo nella chiesa di san pietro in vincoli 17 1897 prende possesso dell'arcidio aspolito febbraio marzo 1831 grandi sofferenze d'arcivesco bastai per la rivoluzione che è imperversa in tutta l'ombria gravi incidenti aspolito 22 12 1832 papa gregorio xvi lo trasferisce alla sede di imola dove prende possesso il 13 2 1833 17 12 1840 riceve in concistore il cappello cardinalizio 18 6 1847 ha detto papa solo 54 anni il 16 7 1846 concede all'amnesia per i debiti delitti politici l'8 11 1846 prima enciclica di fondamente fondamentale importanza condanna le società segrete le massonerie e il comunismo il 18 3 1847 promulga ampia libertà di stampa 5 7 1847 istituisce la guardia civica 28 7 1847 mette in guardia clero e popolo contro i pericoli dello spiritismo 1 10 1847 istituisce il municipio del conto e il consiglio comunale di roma 18 10 1847 istituisce la consulta di stato in rappresentanza di tutte le province dello stato pontificio verso la bioteficazione 13 7 1881 l'assame del pio nono tra un solenne tributo di amore tra selvagge dimostrazioni di anarchici viene trasportata dalla basilica di san lorenzo al verano 13 2 1882 istituita la commissione per l'opera del sepolcro di pio nono il lavoro viene definito dal sacconi l'opera più splendida dell'arte cristiana del 19 secolo l'undici 2 1907 santissimo pio decimo ordina con la introduzione dei processi necessari ordinari per la causa di benificazione di pio nono che si svolgono a roba senigallia spoleto napoli e imola 7 12 1954 pio papa pio dodicesimo ratifica il il re scritto della santa congregazione diritti istituendo la commissione per la introduzione della causa di benificazione del servo di dio pio nono 28 26 1955 solenne apertura del processo apostolico di benificazione sotto sono stati interrogati 19 testimoni 25 10 19 1956 riconoscimento l'incognizione della salma di pio nono 17 10 1962 papa giovanni tv xiii avuta la relazione dell'esito positivo dell'ante anti reparatoria decide che la causa da procedere avanti 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 e cioè che sia presentata nella congregazione preparatoria davanti agli eminentissimi cardinali il 28 5 1963 si aduna nel palazzo apostolico vaticano la sacra congregazione dei riti preparatoria della quale gli eminentissimi cardinali e consultori discutono sulla velocità delle virtù di pio nono ora si attende l'ultima congregazione generale avanti al santo padre nella quale verrà firmato il decreto detto del tutto cioè della sicurezza a procedere alla proclamazione della santità di pio nono il 2 11 1963 paolo sesto scende dalla cripta di san lorenzo al verano e si ginocchia in preghiera avanti al feretro di pio nono novembre 1954 giugno 1970 il postulatore della causa di benificazione di pio nono monsignor alberto canestri pubblica un mollettino di informazioni dal titolo la voce di pio nono escono 94 fascicoli l'undici tre 1971 muore monsignor alberto canestri postulatore della causa di benificazione di pio nono dal 1929 appassionato cultore difensore intrepido di pio nono ha scritto tra l'altro quattro volumi dal titolo l'anima di pio nono paolo sesto nomine il nuovo postulatore della persona dell'illustre teologo monsignor antono antonio piolanti il 9 7 1972 si costituisce l'associazione dei promotori della causa di benificazione del servo di dio pio nono presidente l eminentissimo cardinal pietro parente vicepresidente l eminentissimo odo fusi pecci vescovo di senigallia segretario monsignor antonio piolanti postulatore della causa di benificazione di pio nono di pio nono il nuovo postulatore inizia la pubblicazione della rivista pio dono quadrimestrale per la raccolta di studi e ricerche sulla vita della chiesa dal settecento ad oggi 19 1 1974 i vescovi delle marche presentano al santo padre una petizione per la beatificazione di pio nono il 72 1977 la diocesi di senigallia guidata dal vescovo odo fusi pecci apre un pellegrinaggio sulla tomba del venerato pontefici della basilica in san lorenzo l'erano di roma il centenario per la santa morte di pio nono 5 3 1978 gli anzi ad oltre dieci mila persone tra cui mili senigallesi con il vescovo i sindaci di senigallia ostra cori corinaldo ostra vetere serra dei conti ripe il presidente dell'azienda di soggiorno vi livetti il presidente dell'opera pia bertolini è un buon numero di nostri sacerdoti il papa assolutamente celebrato in san pietro il centenario della morte del nostro concittadino pio nono domenica 5 marzo 1878 al successivo rito erano presenti oltre 30 cardinali morti arcivescovi vescovi il capitolo vaticano il corpo diplomatico accreditato presso la santa sede il ministro degli esseri forlani per la presentanza del governo italiano l'onorevole ciaffi e la sessore dario tinti in rappresentanza del governo regionale della marche povero sesto non ha non ha voluto anticipare il giudizio definitivo sulla storia del pontificato di pio ma di papa ma stai ferretti non ha voluto condizionare con il peso della sua autorità il futuro lavoro di ricerca degli studiosi nel tanto momento nel tanto meno l'iter canonico della causa di pontificazione ma sia limitata ad una rivota meditazione sul profilo spirituale e l'apostolico del suo predecessore e il nostro grande concittadino la complessità dei fatti che si verificano e dei problemi che si posono al corso lungo pontificato di pio nono ha detto il papa è in materia tuttora aperta sotto l'aspetto storico alla perdurare riflessione e dalle approvondite indagini di una serie a documentata biografia ma forse sarà necessario un ulteriore non breve periodo di decantazione perché la prospettiva sia si allarghi perché si comprendano appieno gli avvenimenti e le loro motivazioni più profonde più vere in un mondo tale che fugato ogni residuo passionale di anni di passionale animosità e di pregiudizio e di pregiudizio la personalità di questo pontificio possa emergere nella sua dimensione di autentica umana umanità di radiante bontà di esemplare virtù il 6 7 1985 la sagra congregazione per la chiesa dei santi promulga il decreto approvato dal padre san giovanni paolo secondo sulle virtù eroiche del servo dio pio nono siamo alla vigilia alla vigilia della sua beatificazione 3 9 2 mila beatificazioni di papa pio nono in piazza san pietro da parte giovanni paolo secondo